Abbiamo pensato delle cose che sono la cultura che potrebbero sparire. Tipo io che leggo sempre? I libri, il cinema, i dipinti, il cibo, tipo la pizza o le lasagne, sono la nostra cultura di cucina. Poi il giardino del Guasto secondo te è un posto raccomandabile... È pieno di cemento? Il giardino di cemento, cioè potevano togliere il cemento invece che togliere i giochi. Magari è un ventinaio però gli piace un sacco andare al cinema e gli piace... Cioè magari non gli tolgono dei soldi però comunque deve pensare anche cosa fa nella vita quotidiana. Beh no, sì, quindi tolgono i soldi al cinema quindi lui non può più vedere il cinema. Quindi secondo noi si dovrebbero aiutarli. Sono compresi tutti. Grazie per la visione!